Quando il porco si è biancato, ora è pila. Quando il porco si è biancato, ora è pila. Quando il porco si è biancato, ora è pila. Non lo so questo gli ha detto. Ma pila è quello che pensiamo. Il piatto in cui è mangiato? Quando il porco è sazio, va girato nella pentola. Non possiamo arrivare? Non ne ho becchi di idea, assolutamente. Quando il maiale si diventa grasso, lo si ammazza. Quando il maiale sta sdraiato, sta affaticato, ota pila e guarda il pelo? Portalo a cottura, no. Vuota la pelle. Giralo, no a cuocere, rivoltalo al maiale. Com'è però, come dice? Quando il maiale gli è andato bianco? Quando il porco si è binghiato, ota a pila. Quando un porco si è abbuffato, sputa nel piatto dove mangia. E non ho capito, quando il maiale si è... Che non è riconoscente, la gente. Oh, bravo. Ce l'abbiamo fatto. Quando il porco è pieno, rivolta il piatto. E quindi chi è associato? Ma tanto che mi aiutavi. Questo è come il dente che ci abbiamo noi, ad Andrea. Non sputare nel piatto dove ho mangiato. Quando lo porco si è binghiato, gli ha decato tutto. Fate, non si fate. Il significato, quando il maiale si sazia, la bacinella, come la devo camare, la mette sotto sopra. Qualche politico, sta buono, gli due senti fatti dall'auto. Ha capito vedere, sta binghiato, dove stende fatti dall'auto? No, comunque.